Selvaggia Lucarelli ha replicato al duro sfogo di Elena Guarnieri dopo il funerale di Berlusconi, lo scontro tra le giornaliste. Selvaggia Lucarelli ha risposto alle forti parole di Elena Guarnieri. Ma, procediamo con ordine. Il 14 giugno si sono tenuti presso il Duomo di Milano i funerali di Silvio Berlusconi, e il TG5, è stato in prima linea per seguire in diretta la cerimonia. L'inviata scelta per l'occasione è stata Elena Guarnieri, che ha riportato le notizie dell'evento al pubblico di Canale 5. Ad un certo punto, la folla ha iniziato a cantare «Chi non salta comunista è» davanti ad una Guarnieri commossa. Nonostante si sia trattato di una coincidenza, il video è diventato immediatamente virale sul web, scatenando una miriade di critiche. Tra i tanti pareri contrastanti, sono finiti in risalto quelli di Selvaggia Lucarelli e Fabio Salamida. La giudice di Ballando con le stelle ha condiviso il filmato sul suo profilo Instagram, aggiungendo una emoticon di disappunto. Sotto il post, poi, è apparso il commento di Salamida. Appena partirà Ollelle Ollalla faccela vede e faccela tocca dovranno interrompere il collegamento perché inizierà a piangere a dirotto. Tali commenti non sono affatto piaciuti alla Guarnieri, che si è sfogata sui suoi social, parlando di «giornalisti faziosi e sciacalli», e di «maestre e maestri di giornalismo che inseguendo i lichè, tagliano ad occhi video per farli sembrare qualcosa che non è. Questi sono solo sciacalli». Ebbene, di fronte a tali parole, non è tardata ad arrivare la replica di Selvaggia Lucarelli.